musica 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 bella a tutti ragazzi sono aryan e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo come il precedente video con filo bella ragazzi e come vi avevo già detto siamo riusciti a fare un villaggio un po' buono per avere il municipio al 3 esatto e niente adesso vi faccio vedere che lo rifaccio da capo che lo ho infatti questo qua l'abbiamo ideato insieme io e alien quindi adesso lo rifacciamo da capo giusto? esatto musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.